Bella stagione e sinonimo di maggiore cura del corpo. Oggi il grande settore del benessere raggiunge traguardi prima impensabili. La nuova frontiera dell'estetica si chiama T-Shock 31 con un protocollo del centro Messegheda e risultati garantiti. T-Shock 31 è approdato a Gela al centro Lilium Benessere, un trattamento estetico all'avanguardia per tutto il corpo che prevede l'applicazione di bende a compressione graduata nella miscela con il prodotto T-Shock 31 e sali. Un'ora di puro relax mentre gli attivi del prodotto T-Shock 31 agiscono in profondità. In cosa consiste questa nuova metodologia? È un'associazione di 31 componenti messi a punto dai laboratori Messegheda, sono 31 erbe che per effetto osmotico vanno a destoccare i liquidi in eccesso. Con effetti duraturi nel tempo? Ovviamente con la costanza dei trattamenti sì, certo. Quali sono stati i risultati che avete notato immediatamente? T-Shock è stato battezzato a gennaio e abbiamo avuto dei risultati ottimali, continuiamo ad avere ancora delle conferme da parte dei colleghi di tutta Italia e quindi siamo fieri di questo nuovo prodotto. Quali zone del corpo è possibile trattare? Quali sono i risultati su ciascuna zona? Il corpo va trattato tutto, agiamo a livello linfatico, per cui trattiamo tutto il corpo e un prodotto intelligente agisce laddove è necessario che il prodotto agisca. T-Shock lo consiglierei a tutte e soprattutto a chi ha problemi legati a una ritenzione idrica, appesantimento delle gambe, sensazione di gonfiore, chi vuole godersi due ore di benessere, perché no? Nuovi metodi, nuova tecnologia si va sempre avanti, il campo dell'estetica davvero progredisce di giorno in giorno. Per donne e uomini innanzitutto, perché questo è un trattamento che va bene per tutti, è ideale in ogni occasione, come diceva infatti la nostra consulente, e noi cogliamo sempre le opportunità delle novità e portiamo sempre le novità qui a Gela. Siamo qui per questa giornata informativa, ma saremo qui anche nei prossimi giorni e siamo lieti di poterlo illustrare a tutti e dare anche questa opportunità assieme a tante altre.